. At Montreal, Nadal ha valanga su Coric. Fuori Raonic e Tzunga. Come accaduto per Roger Federer meno senza storia il suo match con il canadese Peter Polanski meno la prima di Rafa Nadal al Master 1000 di Montreal è una pura formalità. . In sessione serale, il mancino di Manacor annienta infatti il croato Bonacoric, a cui concede la miseria di soli tre games, e si qualifica per gli ottavi di finale in programma oggi, in cui affronterà il giovane idolo di casa Denis Shapovalov, vincitore sullargentino a Juan Martin del Potro. . 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 Il belga, battuto da un caldissimo Sam Querrey, il belga David Goffin, regolato dal sudcoreani Eon Shun, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sconfitto dal sudafricano Kevin Anderson. A Vanzano invece ha sorprese il veterano David Ferrer, che si sbarazza dello statunitense Jack Sock, numero 15, e lolandese Robin Aase, che sfrutta uno spicchio aperto di tabellone per approdare tra i migliori sedici di Montreal, dopo aver superato il lucky loser americano Ernesto Escobedo. I risultati degli incontri del mercoledì di tennis a Montreal, Nadal, 1, Coric 6162. Shapovalov, WC, Del Potro 63764. Goffin, 9, Eon Shung 5736. Mannarino, Raoni, 6, 6464. Verev, 4, Gasquet 6346763. Lorenzi, Kyrgios, 16, 2636. Carremo Busta, 11, Anderson 36676. Querrey, Zonda, 8, 613664. Dimitrov, 7, Mverev, 633663. Aase, Escobedo, LL, 6461. Nishikori, 5, Monfils, 7, 6457676. Harrison, Bautista Agut, 12, 5726. Sock, 15, Ferrer 6776316. Polanski, WC, Federer, 2, 2616. Grazie a tutti.